Buonasera e ben ritrovati gentili telespettatori e questo nuovo approfondimento, il nostro rotocalco che porta nelle vostre case tante notizie, informazioni, curiosità notizie che arrivano per lo più dall'attualità ebbene nella puntata di oggi, nell'approfondimento di oggi parleremo di un tema importante perché mette insieme quella che è la solidarietà con un principio fondamentale la dignità, parleremo di questo progetto che si chiama Emporio VII Solidale, lo faremo con gli ospiti che mi hanno raggiunto vado subito a presentarveli, sto parlando di Eugenio Morabito responsabile dell'Emporio VII Solidale, grazie per essere qui con me grazie a voi per la partecipazione e in videocollegamento Renato Pittalis, presidente dell'Unione dei Comuni NET, sono i comuni della zona nord-est di Torino grazie per essere intervenuto e benvenuto grazie a voi, buon pomeriggio, buona sera a tutti allora, perché l'Unione NET? perché ovviamente questo è un progetto che è stato realizzato proprio da questa associazione di comuni ne parleremo tra pochissimo vedremo anche le immagini che abbiamo realizzato proprio sul posto partirei subito dal capire che cos'è l'Emporio VII Solidale allora, l'Emporio VII Solidale è fondamentalmente un minimarket è un supermercato, è all'aspetto di un supermercato che però funziona in maniera diversa, diciamo le persone che possono accedere all'interno di questo emporio sono nuclei familiari che si trovano in difficoltà economica e sociale di disagio economico e sociale e che possono accedere solo dopo essere stati valutati dai servizi sociali in questo modo possono accedere al servizio per accedere al servizio ottengono una carta questa card viene vengono caricati dei punti che vengono ricaricati ogni 28 giorni e grazie a questi punti che, diciamo, per dirla in maniera semplice sono i soldi dell'Emporio perché all'interno dell'Emporio non circola danaro possono fare degli acquisti come si fa in un supermercato normale di beni di prima necessità Ecco, la cosa fondamentale è questa la cosa che differenzia, diciamo, questo progetto da qualsiasi altro progetto di, come dire sostegno alimentare è che in quei casi, nei casi classici si ricevono a casa dei pacchi di cui si può usufruire senza però avere la possibilità, per esempio, di scegliere in questo caso, invece, l'Emporio funziona proprio come un piccolo supermercato le famiglie vanno a scegliere in base ai propri bisogni alle proprie necessità anche ai propri gusti quindi questo credo che sia importante Allora, Renato Pittalis lei è stato nominato presidente dell'Unione dei Comuni NET sindaco della città di Leini corretto? giusto ok, sono tanti comuni però che fanno parte di questa associazione ecco, perché è nata l'idea di questo emporio solidale? perché è importante, ecco sì, sono tanti comuni che aderiscono all'Unione dei Comuni l'Unione dei Comuni Nord-Est Torino è una realtà che copre il bacino appunto a nord-est di Torino per una densità per un totale di abitanti di circa 130.000 abitanti quindi diciamo un bacino abbastanza importante direi molto importante nella cintura nord di Torino e vicinanze una delle cose che sono state messe a sistema ma una delle attività che i comuni hanno voluto mettere a sistema sono i servizi socio-assistenziali cioè tutta quella parte di servizi che ogni comunità locale in qualche modo deve andare a prevedere vuoi per norma, vuoi per legge vuoi anche proprio per spirito di comunità nei confronti dei propri cittadini ecco, in un quadro di diverse iniziative diverse attività che l'Unione dei Comuni attraverso appunto i suoi servizi socio-assistenziali messi e condivisi che si gestisce e l'iniziativa Emporio Solidale non è l'unica sono una serie di iniziative già ci sono altre ulteriori che sono centri di ascolto piuttosto che assistenza ai minori piuttosto che il ruolo classico dell'assistenza sociale come è declinato normalmente le nostre città e l'Emporio Solidale diciamo è un'evoluzione del concetto come giustamente Eugenio ricordava prima e come anche lei ricordava che è un qualche cosa di più uno sviluppo ulteriore che si vuole dare in un momento di necessità di opportunità diciamo di concedere degli aiuti anche a chi si trova in difficoltà magari anche solo temporanea non strutturale perché ricordiamo che i nuclei familiari che strutturalmente sono in condizioni di difficoltà vengono già assistiti dalle forme sociali e ordinarie questo è un concetto che va un po' al di là e serve anche nelle cose nelle situazioni appunto temporanee e nelle situazioni che in qualche modo permettono diciamo di superare momentaneamente una situazione di crisi e magari poi sulla base di questa esperienza diventare parte attiva nel futuro della condivisione della gestione della solidarietà nei confronti di terzi assolutamente quello che può capitare a qualcuno domani può capitare a qualcun altro e insomma si cerca un circolo virtuoso che aiuta un circolo in cui ognuno ha un po' la responsabilità anche dell'altro allora tornando all'interno dell'emporio settimo solidale quindi si trovano famiglie si trovano tanti bambini non si trova però soltanto cibo ma tutto quello che serve per diciamo quella che è la vita quotidiana quindi beni di prima necessità da dove arrivano tutte queste scorte e perché è importante anche la solidarietà delle aziende per esempio del territorio allora l'emporio e diciamo che questo è un fattore comune anche ad altri empori abbiamo tre modalità di approvvigionamento principale la prima modalità sono prodotti che arrivano dal fondo dell'Unione Europea che è questo fondo AGEA che sono prodotti che vengono destinati all'Unione Europea da accedenze sempre alimentari di produzione delle grandi aziende che vengono poi dopo ridistribuiti per tutte le associazioni che ovviamente hanno scopo solidale quindi questo è uno dei principali canali di approvvigionamento ed è anche uno di quelli che supporta di più l'emporio poi abbiamo la possibilità di fare acquisti diretti acquisti diretti con soldi che possono essere stati messi in donazione per ovviamente l'acquisto di derrate alimentari e come ultimo modo e devo dire uno tra i più importanti sono ovviamente donazioni private ed aziendali quindi possiamo ricevere donazioni dalla grande azienda dal fruttivendolo del territorio ma anche dal cittadino comune che decide di donarci la spesa questi sono i principali tre modi di approvvigionamento delle derrate alimentari quindi ovviamente l'appello è anche un po' alla solidarietà del territorio alle aziende che magari possono in qualche modo contribuire a questo circolo virtuoso di cui parlavamo sì assolutamente e devo dire che il comune di Settimo e il territorio settimese da questo punto di vista è già preparato culturalmente quindi troviamo sia cittadini che aziende già ben predisposte alla donazione ed ovviamente ci farebbe sempre piacere a ricevere più donazioni anche da chi magari non le ha ancora effettuate la cosa che io ci tengo spesso a dire sull'emporio è che noi vorremmo prediligere tutte quelle donazioni che vanno a combattere lo spreco alimentare quindi vi faccio un esempio semplice il panettiere che fa il pane della giornata spesso il pane che non vende a meno che non siano proprio due o tre forme di pane lo butta perché tendenzialmente si fa così allora lì l'emporio può entrare in gioco cioè tutto l'invenduto che hanno il fruttivendono il panettiere o la gastronomia noi possiamo recuperarle e possiamo far sì che questo cibo che è buonissimo non venga sprecato assolutamente allora Renato Pittalis ovviamente da amministratore del territorio sarà ogni giorno diciamo alle prese con esigenze del territorio di famiglie ed esigenze che negli ultimi anni purtroppo sono in aumento è così? Beh sì sono in aumento i motivi sono anche fin troppo chiari la crisi legata a tutto quello che è stato il fenomeno sanitario del covid le difficoltà che ha indotto nell'economia generale e poi tutto il momento di instabilità generale mondiale che insomma poi paghiamo direttamente nella vita di tutti i giorni sia per quello che riguarda la crisi energetica da ultimo che insomma l'evento bellico in Europa e altre situazioni che insomma di conseguenza vengono a pesare poi sui cittadini anche sulla parte di società che magari era stata immune da determinate difficoltà negli anni passati che oggi si ritrova invece in questo momento così di grande difficoltà è logico che il territorio che cosa fa? fa squadra fa rete cerca di andare a sopperire a quelle che sono le difficoltà inventando anche oppure prendendo spunto da buone idee perché questa dell'Emporio Solidale non è un'invenzione solo delle nostre latitudini ma è un progetto che è stato in qualche modo acquisito che è stato valutato sulla base di altre esperienze precedenti fatte sempre qui in Italia e su questo esempio poi quello che l'Unione dei Comuni ma le singole amministrazioni stanno cercando di mettere in campo è quello di andare a realizzare un intervento anche in altre unità locali per realizzare questo tipo di struttura noi per esempio adesso stiamo seguendo anche come Unione dei Comuni ma come Comune anche di Leini la realizzazione di un Emporio Solidale sul territorio venicese appunto di Leini con l'aggiunta ulteriore del supporto della collaborazione delle associazioni di terzo settore molto importanti nella logica di quella che è la costruzione di una vera cittadinanza attiva e una vera comunione insomma su questi temi i temi dell'aiuto e del sostegno sul porto sociale ecco una cosa che abbiamo cercato anche di mettere in evidenza ma che vorrei tornare a mettere in evidenza è il fatto che l'Emporio VII Solidale nasce proprio come punto di aggregazione e non di marginalità anche il luogo stesso in cui è stato realizzato ci troviamo ecco per essere precisa in via Ariosto 36 negli spazi dell'ecomuseo del Freidano è proprio stato scelto in maniera oculata ecco proprio per fare in modo che sia anche un luogo di cultura di crescita sociale di consapevolezza anche crescita di consapevolezza per i bambini per i giovani no? Certo assolutamente è uno spazio che si sta cercando di reattivare anche dal punto di vista culturale grazie alla fondazione ECM che la gestisce organizza mostre ultimamente abbiamo avuto una mostra che si chiama Pixel che invito tutti i ragazzini ad andare a vedere perché è molto interessante e l'emporio si trova all'interno di questo spazio è uno spazio in cui diciamo chiamiamolo protetto perché comunque le persone che i beneficiari che usufruiscono del servizio si trovano in uno spazio che è esattamente come un supermercato quindi si predilige la chiacchiera si fa i consigli i volontari si interfacciano attivamente con i beneficiari e i beneficiari a loro volta si interfacciano tant'è che io o volontari che erano ex beneficiari usciti da un servizio di assistenza e che per ricambiare quello che hanno ricevuto hanno deciso di fare volontariato ecco un'altra cosa importante quindi è proprio il concetto della dignità della persona i lavoratori appunto dell'emporio settimo solidale fanno parte anche di associazioni spesso che hanno bisogno di magari valorizzazione della propria persona della propria professionalità esatto noi all'interno dell'emporio oltre al classico volontariato che conosciamo tutti abbiamo anche degli inserimenti lavorativi che vengono definiti pass in questo caso ce n'è uno che saluto che è Michela che lei mi aiuta tutti i giorni di apertura e con me segue l'emporio in toto questo serve in primis perché è un grande aiuto per me cioè questa è la verità di fatti e poi comunque è comunque l'emporio uno spazio sociale quindi deve essere attivo a 360 gradi dal mio punto di vista e dal nostro punto di vista sul territorio quindi si aiutano delle persone in difficoltà si aiutano persone negli inserimenti lavorativi per dargli spazio e per fargli conoscere che cos'è il mondo del lavoro e si aiutano anche i volontari che vogliono i cittadini che decidono di voler sostenere il proprio territorio in maniera più attiva ecco tornando invece proprio a quello che è il ruolo delle amministrazioni cittadine le amministrazioni pubbliche Renato Pitalis chi adesso vedesse il nostro servizio e si sentisse in una situazione magari di difficoltà e volesse avere un aiuto delle informazioni andando anche spesso al di là di quello che è il senso quasi di quasi di silenzio che immagino ci siano anche situazioni in cui le persone hanno quasi timore a chiedere aiuto ecco a loro che cosa potrebbe cosa vorrebbe dire come si fa ad uscire appunto ad avere una mano per uscire da situazioni che a volte sono soltanto momentane di passaggio di difficoltà quale consiglio potrebbe dare come amministratore del territorio quali sono i canali che bisogna attivare ma sicuramente bisogna considerare che queste sono per esempio delle strutture che vengono realizzate proprio nell'ottica di andare incontro in una maniera più che dignitosa a quello che può essere bisogno momentaneo forse abbiamo una cultura noi troppo legata ancora un po' al disagio nella voler palesare momenti di difficoltà questo invece è una cosa da superare nel nostro ambito nell'ambito dell'Unione dei servizi sociali del socio assistenziale dell'Unione gli uffici e tutte le strutture anche nei vari comuni sono sempre pronte e sono sempre disponibili ad andare ad esplorare quali sono le possibilità e ce n'è veramente tante per tutti dai buoni alimentari classici al il diritto allo studio piuttosto che bonus energetici piuttosto che diverse possibilità naturalmente sono tutte collegate a quelle che sono le difficoltà dimostrabili da un punto di vista economico ma non solo è importante pensare una cosa quello che oggi è la difficoltà di una persona domani può essere oggi può essere superata e domani può diventare quella stessa persona un'opportunità del superamento di problemi di altri questo è ciò che deve far approcciare a tutte le iniziative che in qualche modo vedono il volontariato vedono la possibilità di intervenire l'elemento nuovo è questa grande forma di partenariato tra il pubblico il privato le associazioni il pubblico che inizia le sue attività che costruiscono una vera e propria rete di solidarietà e che possono in questo modo andare a soperire a quelli sono i bisogni io quello che posso dire ai cittadini che si ritrovano in condizioni di temporanea o strutturale anche difficoltà e che per un senso di dignità estremo cercano di evitare in qualche modo invece di cercare un aiuto ecco di superare perché superare questa difficoltà e andare invece a chiederlo e si accorgeranno che è molto più facile essere aiutati e un domani è molto più facile ancora aiutare quelli che si trovano in una situazione a comprendere diciamo quelli che si trovano in una situazione di cui c'è bisogno credo che questo sia un messaggio importante in un momento in cui non dobbiamo ignorare la necessità per delle persone che non hanno mai avuto il confronto con la necessità ecco di doversi confrontare forse sono molto fragili proprio sotto il punto di vista della percezione di questa situazione certo c'è forse a volte anche un po' di paura nel senso che per una errata diciamo considerazione magari del fatto che per esempio da una difficoltà si possa uscire no? Alcune famiglie lo sappiamo nei mesi in cui c'è stato soprattutto il covid nel momento peggiore diciamo ci dicevano è però se arrivano i servizi sociali mi portano via i figli perché non posso dar loro da mangiare ecco forse anche questa questa paura anche del direi che bisogna non razionalizzare in questo momento si è tutti concentrati a cercare di dare supporto naturalmente condizionato alla necessità alla vera e propria necessità e il supporto a tutti quelli le persone che hanno bisogno però attenzione il meccanismo non è proprio così automatico della schedatura delle persone da un punto di vista della necessità e del bisogno noi abbiamo avuto diverse ricordava bene diverse situazioni familiare che hanno hanno avuto necessità di supporto nel periodo del covid con il famoso sostegno alimentare ma insomma superato quel momento sono ritornate ad essere normalmente e l'hanno superato senza nessuna direi conseguenza di tipo sociale di etichettatura o di altro tipo non ce n'è c'è molta riservatezza molta attenzione a tutto quello che è la la prevenzione insomma anche degli atteggiamenti che possono portare disagio c'è una grande attenzione poi voglio dire l'emporio solidale nel caso particolare è un luogo festoso quasi perché si vuole coniugare delle necessità varie perché guardi anche la necessità di rendersi utile è importante in questo e in questo ciò che insomma si realizza in questa struttura è proprio quello da una parte la necessità di essere supportati e dall'altra la necessità di essere utili a qualcuno assolutamente immagino poi lo scambio di ricette magari lo scambio proprio di consigli allora come lo faccio questa pasta che cosa ne pensi queste sono anche situazioni che si vengono a creare ma assolutamente ma come è successo che un beneficiario che avesse finito un utente che aveva finito i punti gli sono stati donati parte dei punti dall'altro che era prima di lui in spesa e ha detto vabbè prendili tu il pacco di pasta quindi in realtà si crea un ambiente che come ho già detto è sicuro ma è un ambiente normalissimo è un supermercato è vero che funziona con delle regole diverse ma quello è lo spazio ed è così che le persone ne usufruiscono e in cui si sentono tranquillissime certo allora torneremo sicuramente a far visita all'emporio settimo solidale per seguire magari altre iniziative perché ce ne sono diverse che vengono attivate e sono sicura che nel tempo saranno sempre di più io ringrazio Eugenio Morabito responsabile dell'emporio settimo solidale per essere stato qui con me grazie grazie a voi e ringrazio Renato Pittalis presidente dell'Unione dei Comuni NET grazie anche a lei e buon lavoro grazie e grazie a voi buona serata saluto i nostri telespettatori che ci hanno seguito da casa e come sempre vi do l'appuntamento alla prossima puntata arrivederci oh che bello dove? maravolo cari grazie a voi grazie a voi